ho visto la i che bacia lui è il titolo particolare del carro realizzato da mauro chiappa insieme all'associazione fanta gruel carro di prima categoria che andremo a vedere oggi qui all'interno dei cappannoni del carnevale di fa mauro chiappa ho visto la i che bacia lui ci può spiegare il titolo di questo carro il titolo del carro e ho visto l'hai che bacia lui l'hai l'intelligenza artificiale il carro racconta della possibilità infinita dell'intelligenza artificiale di eguagliare e raggiungere tutte le potenzialità umane tranne secondo noi l'emozione del bacio e delle emozioni umane più vive più vere come si sviluppa il carro cosa troviamo nella sua vita nel carro potrete trovare un grosso robot che rappresenta appunto l'intelligenza artificiale e al centro del carro dove è intento ad abbracciare un entità luminosa però non riesce in realtà ad abbracciare nessuno intorno al carro sono delle figure invece umane che rappresentano tutte quante le accezioni del bacio siete tutti invitati a partecipare alle tre sfilate del carnevale di fano e a vedere i nostri carri buon carnevale a tutti